Il filtro defangatore Ciao, in questo video voglio parlare del filtro defangatore un filtro che non solo è consigliato installare sul circuito di riscaldamento ma per i nuovi impianti e dove c'è una caldaia a condensazione è obbligatorio Viene installato sotto la caldaia, collegata sulla tubazione di ritorno e tutta l'acqua del circuito di riscaldamento gira in continuazione in questo filtro che ha lo scopo di trattenere il fango e gli ossidi di ferro Per fare questo lavoro al suo interno è posizionato anche un magnete che attira e non rilascia appunto queste impurità Se viene sostituita la caldaia, prima di installare la nuova caldaia e questo tipo di filtro su tutto il circuito di riscaldamento andrebbe lavato accuratamente con prodotti specifici e il lavoro va fatto fare da tecnici specializzati Questo filtro eviterà che i fanghi e gli ossidi finiscano nello scambitore di calore evitando che si intasino e di conseguenza evitando costi maggiori di combustibile Con questo video è tutto Sai che ci occupiamo di impianti di purificazione acqua e di sanificazione ambientale Se vuoi informazioni sui nostri prodotti, i nostri contatti li vedi sullo schermo Ciao e al prossimo video!